ma dove cazzo vivono sti pinguini? però l'occhi bus è perfetto ma è perfetto ma vuoi che tu sei coglione c'è una scala in avanti, apri la porta l'occhi bus è scappottato di sotto ma poi com'è vestito sto pinguino? scusami ciao andrei per sapere secondo sarebbe più inquinate sapere che in tutto l'universo siamo le uniche specie viventi ad esistere o che ce ne siano altre minore 3 3 patatino io ti ringrazio per il cir ma non ho capito veramente un cazzo scusami non ho capito proprio niente è elastico boop boop boop